Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di CSCoverwatch Mi nome è come sempre Kuton Wait e quest'oggi siamo tutti qui riuniti per guardare un'altra prova E chi appare, possibilmente, un altro cheater Quindi, diamoci da fare Ok ragazzi, ci siamo Siamo su Mirage, il nostro sospettato è T Sto vincendo 8 a 2, facendo 15 kill, 6 morti, 167 di average damage per round 2-3k, 60% di HS Tira una smoke in A e decide di entrare Smoke va a esplodere nella zona di triple Riesce a farla kill, uccide un'altra buce Oh Jesus Oh Jesus Che cazzo gli ha fatto? Ci sono rimasto malissimo Wow Ok Ok, roundone da parte sua Non mi sembrava un aimlock particolare Non mi sembrava, non ha snappato in modo naturale Semplicemente gli app ci ha messo una vita e mezza E qui lo stava correndo Nelle praterie Tenendo una mano sulla fronte Dicendo quanto sono bello E ha preso un HS Cioè qua mi sembra che si Soprattutto magari uno smurf Ma Cioè Dai l'ha visto per 8 anni Emo eh Emo poteva ucciderlo 8 volte Cioè what? Why? Perché? Questo è stato reportato perché è palesemente uno smurf 3 AWP Intanto tu sai terro Beh lì AWP Tu sai terro Prende il tizio Stava ricaricando All'aperto proprio Riesce a prendere anche il tizio In triple box Guarda ninja Uccide Un tizio in ninja Sta facendo tutto lui comunque Sta facendo tutto lui Ma non è un cheater L'ha preso nella smoke Ok Potrebbe succedere Cioè può succedere Può capitare Però inizierò a dare un'occhiata Oh Jesus Ok Il mio problema è che i ct Non stanno Non stanno rispondendo al fuoco Non credo Cioè non credo che non abbiano tempo Cioè adesso Leviamo gli x-ray E guardiamo un altro Perché io non sto capendo Cioè questo è uno smurf Forte forte Che sta giocando contro gente Scarsa scarsa Oppure c'è qualcosa di strano Io punto sullo smurf Onestamente Questo pick è giusto E il tizio stava Stava girando su se stesso Perché sti cazzi Va bene E spettato adesso E ct Primo round Sono in 3 in A I terrors Sono arrivando tutti in A Si nascondono tutti sotto dark Perché c'è una festa Larghiamoci che c'è posto Madonna Potrebbe essere trigger bot Chiedo Perché onestamente Non ne ho idea Potrebbe essere trigger bot Perché sono fottutamente perfetti I shot che ha fatto L'hai visto L'hai visto a sinistra L'hai visto Eccolo lì Ok Ok Sono esterrefatto Più fatto che esterre Ma Molto esterrefatto Cioè Pogno Cosa ne pensi tu Eh Diccelo dall'alto Del tuo trespolo Pogno Pogno non può rispondere In questo momento E se girate il camera Adesso la lady In questo momento Probabilmente mi uccide Quindi evito Ha fatto di sì Con la testa L'ho visto con la coda Dell'occhio Sì Quella è una bomba Quella è un corpo morto E la leak tipo Che guardava Oh mio dio Questo uomo è morto Oh mio dio Lì c'è una bomba Chiamate la polizia Dove cazzo Ok Sa che ce n'è uno Verso B Perché ha sparato Trasso il legno Ok Oh spara bene Che cazzo vi devo dire Riga Spara bene Spara un sacco bene La madonna Cioè a quanto è Ragazzi a 38 kg Siamo a 18 round Però Cioè vi giuro Che in tutto L'overwatch Gli avranno sparato Se no due colpi Allora Per me è uno smurf Ok Chiamiamoci Per me è uno smurf Ho una leggera puzza Di trigger bot Proprio sul naso Ma non ne sono sicuro Non lo so ragazzi È smurf È smurf un sacco bravo Che sta giocando con gente Un sacco 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 Pippa Ma un sacco Il mio nome è come sempre Quittono8 Fatemi sapere cosa ne pensate Ciao a tutti Gioco ai videogames Da quando avevo Due anni Adesso sono il re Del let's play Wanna wait Ciao a tutti